Chiudo le slide così capite, nel senso ci sono ancora due slide che però sono rimando a quello che vi faccio vedere, cioè una si intitola come si applicano le scienze creative commons e ve lo faccio vedere adesso, l'altra si intitola come si trovano opere sotto le scienze creative commons, sostanzialmente qua siamo nel lato di autori che creano un'opera e vogliono rilasciarla sotto le scienze creative commons, però poi c'è l'altro lato, come abbiamo visto fin dall'inizio, abbiamo danzato da queste due ottiche, è stato così per tutto il seminario, l'altro lato appunto è quello di coloro che invece sono semplici utilizzatori e vogliono sapere come trovare opere sotto le scienze creative commons, che è un po' una domanda di quelle che mi sono pervenute per iscritto, e come vedete questo è uno screenshot, forse adesso non è cambiato la grafica, però è lo screenshot di un motore di ricerca creato da quelli di creative commons per trovare opere, ed è un semplice motore di ricerca che applica dei filtri, quindi non fa altro che cercare a sua volta su altri motori di ricerca solo che applica dei filtri, ma questa cosa qua la fa in realtà anche Google stesso e quindi ve la faccio vedere da lì. Quindi chiudo le mie slide e vi faccio vedere il gran finale e poi passo alla, cioè vi invito ovviamente a seguirmi in questi canali, come già detto, ma vi faccio vedere la licenza, quindi le mie slide sono rilasciate sotto licenza creative commons attribution channel like, con il link la licenza, se io clicco, dove andiamo a finire, vediamo, così la vedete finalmente, ladies and gentlemen, ecco la licenza creative commons, è la, diciamo, quella applicata, da me applicata, ve la faccio vedere in italiano, così avete più familiarità, però eccola qua, vedete il, scusate, si aprono un sacco di, non scudiamo sto coso, allora vedete le due anime che dicevamo prima, eccole qua, quindi l'attribution condivide lo stesso modo 4.0, 4.0 è perché le licenze periodicamente vengono aggiornate, quindi ci sono delle versioni che si, come dire, susseguono, questa è la più recente 4.0. Vedete le libertà e le condizioni, molto chiaro, c'è proprio due parti della licenza, tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, cioè tantissima roba, cioè vi libera davvero tanti degli utilizzi che abbiamo visto, e anche di modificare, remixare, trasformare, fare, vedete, materiale basanti sulla mia opera, per qualsiasi fine anche a scopo commerciale. E sotto ci sono le uniche due condizioni che dovete rispettare, che nel mio caso sono l'attribution e lo share a like, tradotto in italiano io l'ho tradotto condividere lo stesso modo perché secondo me è una traduzione più, diciamo, lineare e più aderente a quello, al share a like, che condividere nello stesso modo, oppure stessa licenza, cioè devi applicare la stessa licenza anche sulle opere derivate, quindi se il remix si trasforma in materiale o ti basa su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza. Adesso vi faccio vedere appunto come si applica una licenza, lo facciamo passando proprio qua dal sito di Creative Commons, passiamo dalla home page, Creative Commons.org, Creative Commons.org ci fa vedere una sezione che si chiama Share Your Work, condividi la tua opera e vedete, choose a license, scegli una licenza, si apre una procedura guidata, molto intuitiva, in cui, ecco è anche in italiano, in cui lui ci aiuta a scegliere la licenza e lo fa attraverso delle domande, cioè ci fa due domande e a seconda della risposta che noi diamo lui ci dice sotto che la licenza che abbiamo scelto è questa. Io credo che arrivati a questo punto non ne abbiate così bisogno, nel senso che avendo questa slide, secondo me, più o meno sapete che a seconda della licenza che applicate ottenete questi effetti, quindi secondo me dopo questo corso e con questa slide avete già sufficiente contezza, però insomma per chi non avesse avuto questa grande fortuna di partecipare al corso di oggi, ecco che potete passare da qua, quindi vi chiede consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera? e avete tre risposte possibili, sì, no, sì, fin tanto che gli altri condividono lo stesso modo. E vabbè, se noi rispondiamo qua vedete che sotto cambia, eccolo qua, ha aggiunto il condividere lo stesso modo, se io metto no, mi metto invece il no derivatives, eccolo qua. Poi ci chiede, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Sì, no. Ok, qua ho solo due opzioni, infatti le licenze sono sei, no? Tre e due, tre per due è sei, vengono fuori le sei opzioni. Sotto lui ci dà, a seconda della licenza scelta, anche il codice HTML che noi possiamo copia e incollare per metterlo poi nel footer del nostro sito. Quindi se noi abbiamo un sito, appunto, un sito istituzionale della scuola, nel footer possiamo fare questo, andare a mettere questa informazione, cioè, scusate, andare a prendere questa stringa di codice e lui automaticamente ci fa comparire questa schermata, questa stringa, con il loghino e il link corretto alla licenza. Bisogna qua avere un minimo di competenze di HTML, però mi sembra anche abbastanza intuitivo. Qual è la questione, però, che quasi mai ormai passiamo da qua? Perché succede che buona parte dei siti web, delle piattaforme che noi utilizziamo, non ci permettono di andare a mettere le mani sul codice HTML. Se noi usiamo un sito WordPress, non abbiamo, cioè, sì, poi c'è l'informatico che riesce ad aprire il codice e andarci a mettere le mani, però nella maggior parte dei casi noi usiamo un'interfaccia che ci permette di caricare i contenuti, no? Però il template del sito ci arriva preconfezionato, quindi a volte è difficile passare da qua. E poi, in buona parte delle piattaforme, questa scelta e le licenze l'hanno già integrata. Vi faccio vedere, ad esempio, Slashare, no, non so se usate Slashare per le slide, no? Questo è il mio profilo Slashare su cui ho caricato poco fa le slide. Lui, ecco, mi ha già riconosciuto perché mi sono logato poco fa. Se io carico, faccio Upload, anzi, scusate, vado a prendere un Upload di oggi e faccio vedere, andate uguale. Vabbè, è come se io caricassi, ecco, le slide di oggi sono queste qua. Eccole qui, le stesse slide che avete visto finora. Io lo apro, posso andare a modificare. Ecco, se io faccio Edit, entro nei settaggi della piattaforma e vedrete che, eccole qua, vedete che, quando io ho caricato le slide, lui mi ha chiesto quale di queste sei licenze dovevo scegliere. Quindi, in realtà, lo fa già lui. Cioè, io devo solamente aprire una tendina e scegliere. Il discorso dell'applicazione dei metadati, no, di quella stringa di codice, è già integrata nella piattaforma. Questa cosa la fanno identica anche, che ne so, Flickr per le foto, Vimeo per i video. Cioè, quasi sempre ormai vi trovate in una situazione del genere in cui dovete semplicemente scegliere all'interno di una tendina. Se no, appunto, se invece avete un sito di cui controllate voi il codice, passate dal giro classico che vi ho fatto vedere prima. Adesso ci spostiamo dall'altro lato della barricata, cioè da parte di quelli che vogliono utilizzare, no, così rispondo alla domanda di qualcuno di voi che dice voglio caricare, scusate, voglio trovare opere che siano libere da copyright o che siano sotto licenza di Creative Commons, come faccio? Come vi ho detto, allora, Creative Commons di suo ha già creato un filtro, no? Qua in alto nel sito trovate search.com.org ed è un motore di ricerca, diciamo, è più tarato sulle immagini, no? È un motore di ricerca più pesato sulle immagini, però sostanzialmente fa questa roba qui, cioè aggiunge un filtro. Quello che vi ho fatto vedere prima con la grafica modificata. Io ho bisogno di un'immagine, che ne so, di Chieti per fare, che ne so, centro storico di Chieti per fare un progetto di storia locale con i miei studenti. E quindi ho bisogno di immagini che siano modificabili e adattabili, eccolo qua. Che siano utilizzabili a livello commerciale non mi interessa perché tanto io sono una scuola pubblica e quindi non ne faccio un uso commerciale. Quindi mi basta cliccare su qua. Faccio search e vediamo cosa mi manda. Questo è quello che ha trovato. Non so, adesso voi mi direte che magari no, ma non è Chieti, non è qua, non è là, però ecco, infatti no. Però questo è un po' il meccanismo, cioè semplicemente un motore di ricerca che va a cercare, a filtrare le ricerche. Secondo me però viene ancora più semplice se noi passiamo da Google, ricerca avanzata. O da Google, facciamo Google generico e poi vi faccio vedere la ricerca avanzata. Se io cerco la stessa, faccio la stessa chiave di ricerca, Chieti, centro storico. Così è generica, però mi cerca tutte le pagine che ha trovato sotto questa voce. Io qua cosa posso fare? Guardate, strumenti, si aprono dei... Ho qua l'ha tolta, ah scusate perché devo andare su immagini, Chieti. Immagini. Immagini, adesso posso fare strumenti. Eccolo qua, diritti di utilizzo. Nessuno di voi aveva mai visto questa... So che spesso stupisce questa funzione, che in realtà esiste da un sacco di anni. Vedete che lui ha già fatto il lavoro che avremmo fatto di là, passando dal giro di Creative Commons. Lo fa già Google, cioè lui ci dice che trova immagini che siano contrassegnate con licenze di questo tipo. Se io non gli dico nulla, lui mi dà tutto. Mi dà tutte quelle non filtrate in base alla licenza. E quindi è pericoloso, perché non è che io prendo... Quello che fa l'uomo, diciamo, il cittadino medio, è quello di andare a prendere la prima che gli piace, no? Ma se io prendo... Ecco, tipo, se io prendo questa qua, vedete che viene dal sito tripadvisor.it, mi espongo a un rischio, perché TripAdvisor probabilmente avrà un copyright su questa foto qua. Oppure viaggifidelityhouse.eu, uguale, o cityrumors.it. Sono siti web che fanno probabilmente, organizzano gite turistiche, vendono viaggi, cose del genere, che hanno le loro foto. Se invece io faccio delitti di utilizzo e dico per essere modificate, per il riutilizzo abbiamo detto non commerciale, perché noi siamo in quell'ambito lì, con modifiche, questo. Avete visto che buona parte di quelle che c'erano me le ha tirate via? Perché erano tutte con copyright. E quindi mi ha lasciato queste. Eh, lo so che magari non c'è più quella che mi piace, però almeno così sono tranquillo dal punto di vista del copyright. Ad esempio, vedete, ha lasciato quelle che si trovano su Wikipedia, su Wikimedia Commons, che sono i progetti della Wikimedia Foundation. Quindi, vabbè, questa è storta, però usiamo questa, poi la raddrizziamo. Questa è una foto, dice, del centro di che, che si trova, vado a vedere, attenzione, ecco, notate questo, ho sentito che c'è una domanda, ma ci torno dopo, abbiate pazienza. Notate questa cosa. Google dice, le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Cioè, lui ci dice sostanzialmente che, come dire, lui se ne lava le mani. Cioè, non è che fa l'avvocato di lavoro, Google. Cioè, lui fa il motore di ricerca, dice che secondo i suoi record, secondo quello che a lui risulta, questa immagine è liberamente utilizzabile. Però, attenzione, che potrebbero essere soggetti a copyright. Il condizionale è interessante, perché è un modo per dire, io non ne voglio sapere, verifica tu. E infatti, quello che dovete fare, quello che io consiglio di fare, è di andare sulla fonte originaria. Cioè, andare nella pagina originaria e da qua prelevare la foto. Innanzitutto se era addrizzata, quindi già cosa buona. E poi abbiamo tutte le informazioni, i metadati, fra cui anche l'autore, cioè la persona che andrà citata poi nell'utilizzo. E la data in cui è stata scattata e ecco la licenza. La Creative Commons Attribution 3.0. Questa è una 3.0, perché nel 2010, esatto, non c'erano ancora le 4.0. Questo è il giro che dovete fare. Ora, in questo modo, io sono più tranquillo dal punto di vista del diritto d'autore. Arrivo, ho visto che c'è una domanda, però volevo chiudere un attimo il giro. E farvi vedere che questa cosa si può fare anche in generale sui contenuti, cioè non solo sulle foto, ma anche su, che ne so, su i testi, su altre opere. Basta passare dalla ricerca avanzata di Google, quel posto fantastico in cui nessuno va mai e che invece sarebbe... Io insegnerei, oltre che ai docenti, ma anche agli studenti, di usare Google sempre in ricerca avanzata. Cioè questo è il Google in modalità avanzata, perché ci permette di calibrare in modo molto chirurgico la ricerca e diamo molta meno libertà a Google di darsi quello che lui vuole. Quindi noi possiamo dare una, vedete, una stringa di parole, escludere alcune parole, questa è una cosa potentissima. Dire che volete una frase esatta, quindi non solo la combinazione, cioè non solo le parole insieme, ma la combinazione precisa di parole. E poi potete escludere, vedete, solo alcune lingue, solo l'area geografica, un contenuto pubblicato di recente oppure più vecchio. Questa roba qui è potentissima, cioè se imparate a usare questo, poi non tornate più indietro. E tra queste vedete che c'è anche, appunto, il famoso filtro con la licenza. Quindi facciamo la stessa cosa, io voglio... oppure facciamo invece che centro storico, facciamo storia di Chieti. Così magari vedo se... Se qualcuno, qualche docente o magari qualche autore locale prima di me ha fatto già un lavoro di ricerca sulla storia locale di Chieti. E voglio proprio la parola esatta, storia di Chieti. E poi gli vado a dare il filtro condivisibile, condivisibile veramente anche a scopo commerciale, dovrebbe essere... eccolo qua. No, scusate, no, condivisibile liberamente, mi basta questo. Questo qua. Ricerca avanzata. E ovviamente cosa ha trovato? Ha trovato la pagina storia di Chieti di Wikipedia, perché Wikipedia è sotto la licenza di Creative Commons. Immagino che lo sappiate, al senso non ve l'ho fatto vedere, però... Wikipedia è tutta sotto la licenza di Creative Commons. E quindi è chiaro che uno dei primi risultati sarà sempre quello, no? Perché è sempre uno dei più cliccati. E poi sotto trova altre cose. Templi romani di Chieti. Dovete un attimo darvi da fare e far passare i filtri per arrivare al contenuto. Però l'importante è che poi voi facciate un lavoro di verifica della licenza. Cioè questo è un motore di ricerca, lui vi dà una prima indicazione, e poi quando andate a prelevare il file verificate che sotto ci sia la licenza. Direi che, anche perché siamo già in ritardo, è vero che abbiamo iniziato più tardi, grazie a tutti.